Radio Sound 24, la trovi in FM e DAB e in streaming ovunque ti trovi. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Sound 24. Oggi abbiamo, oltre ai problemi che sappiamo tutti, vengono dall'Ucraina dove si combatte, dove gli ucraini stanno dando dimostrazione di essere un popolo di gente coraggiosa. Torniamo a Milano dove abbiamo diversi arresti di spacciatori marocchini, tra il corvetto e la zona di Milano che è complessiva di città studi. Il problema dei marocchini va quindi affrontato con molta velocità, perché nel 2020 sono i primi in Lombardia nella classifica degli spacciatori extracomunitari e nel 2021 sono i primi nel numero di stranieri detenuti sempre in Lombardia. Poi abbiamo quello che ieri ha fatto vedere il nostro sindaco, cioè l'acqua del sindaco. Ora, l'acqua non è sua, anche perché l'acqua è di Milano e dei milanesi, che hanno pagato l'AMM, l'acquedotto, prima l'acquedotto poi l'AMM che gestisce l'acquedotto, e quindi si tratta di beni di Milano, di un bene fondamentale per la città, che centra l'acqua del sindaco. Questa è una deformazione sul quale ha giocato il nostro sindaco, che ormai su questo ha impiantato le sue butade giornalistiche. Il sindaco non ha un'acqua sua, l'acqua è di tutta la città dei milanesi, che sono pagati a caro prezzo, con tasse e sul tasse. Poi oggi ho partecipato a una manifestazione di tassisti, che sono ovviamente molto arrabbiati, perché si vuole liberalizzare nel disegno di legge sulla concorrenza, si vuole liberalizzare le licenze dei tassisti. E ovviamente i nostri amici tassisti non lo condividono, anche perché non si capisce perché dovremmo liberalizzare le licenze. A Milano ce ne sono già 5.500 tassisti, che credo siano già sufficienti alla bisogna. E quindi sono stato dalla loro parte, basta vedere anche le foto che ci sono sul mio blog. Poi, e questa era l'ultima notizia, abbiamo anche le petizioni. Mi raccomando, firmate la petizione su Basta Violenza a Milano. E poi oggi abbiamo anche, con il Presidente Fontana, abbiamo oggi chiesto ai sindaci, io ho indirizzato una lettera ai sindaci per sollecitarli al Taser. Ecco, ho mandato questa lettera a tutti i sindaci, ho mandato una lettera a tutti i sindaci insieme a Fontana per chiedere che vengano dotati dei Taser. Ecco, quindi è anche qui importante che questo strumento sia in mano agli agenti della Polizia Locale, per cui anche questo rientra nelle nostre richieste che stiamo inviando ai sindaci per sensibilizzarli su questo tema. Mi raccomando quindi di firmare la petizione online sull'esercito nelle strade di Milano, telecamere, e poi no alla pedonizzazione di Corso Buenos Aires. Grazie e a risentirci domani, oggi è giovedì 24, domani 25 di marzo. Buona serata a voi.